Il giudice degli enti chiedenti delle funzioni costituzionali o coscienze dell'interesse della Repubblica della Regione. Surroga in Consiglio Comunale, si dimette un assessore, entra un nuovo consigliere, il primo dei non eletti di Intesa Civica Solidale, Lorenzo Larocca. Cosa si prova ad entrare adesso? È un'emozione, sono quattro anni che lavoro con Intesa Civica, quindi è un bel traguardo che ho raggiunto, sono un giovane quindi anche per noi forse è un po' più difficile. Saranno cinque anni belli spero, mi auguro che questa città la possiamo lasciare un po' migliore di come l'abbiamo trovata e mi auguro che sia un lavoro condiviso con tutti i nostri partner di percorso. Qual è il suo programma in Consiglio Comunale? Sicuramente è un'attenzione ai ragazzi e alla mia età, anche se io sfuggo un pochino da quelle che sono le logiche delle politiche giovanili perché credo che debbano essere inserite in un contesto più ampio della politica in generale. La mia esperienza è quella di Intesa Civica, quindi le consulte cittadine e sicuramente il bilancio partecipato, un'attenzione ai rifiuti, è grosso il programma e quindi ci sarà molto da fare. Come definisce il rapporto con l'amministrazione comunale, con l'Aggiunta? Ma credo che si possa lavorare bene, la squadra è una bella squadra, sono tutti indaffarati nei primi giorni chiaramente di presa ad atto di quelle che saranno le attività che dovranno svolgere. Credo che si possa fare un ottimo lavoro tutti assieme e in armonia.